E adesso un'attrice che raramente appare in televisione, una grande attrice, Mariangela Melato. Grazie, 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 grazie. Eh, grazie. Sono tutti applausi al repratio. Grazie, 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 grazie. Che meravigliosa rosa. Ma non sono niente. Beh, ma insomma, è una bellissima rosa. Io sono stato in camerino all'Argentina dove eri piena di rose, eri in un rosetto. Certo, c'è ancora questa abitudine fantastica di regalare fiori alle attrici. Una volta si regalavano diamanti, sono arrivata troppo tardi, però i fiori mi arrivano. Tu sei nata per fare teatro, per fare palcociè, per fare... Ma non lo so, non lo so. Certo mi piace farlo, mi piace, è un lavoro che adoro e credo che qualcuno lo capisca. Insomma, quelli che mi conoscono lo sanno, che mi piace veramente. Ma che scuola hai fatto per raggiungere il tuo sogno, diciamo? No, ho fatto solo un anno di una scuola a Milano, che si chiamava, e si chiama ancora Filodrammatici, dove c'era un'insegnante molto brava, che si chiamava Esperia Sperani, che era una famosissima serata. Famosissima, attrice. Tu sei arrivata in televisione dentro una valigia. Portata da te. Eh sì! Mariangela, Melato, Mariangela, scusa, dove sei? Sono qui, Pippo, sono qui. Ma scusa, dove ti trovi, dove sei? Rispondi, per favore. Nella valigia! Nella valigia. Apri, apri, soppoco! Nella valigia. Ma cosa succede? Nella valigia. Sì, apri. Mariangela! Finalmente! Sono tre ore che sto qua dentro, gridavo, ma come gridano quei cantanti lì? Ahia! Ma avete anche preso calci, eh? Ma scusa tanto, cosa ci fai nella valigia? Ah, non voglio sapere, esco. Eh, cosa ci faccio? Io sono andata dal portiere. Il portiere mi ha detto, c'era il pass? No, non ce l'ho il pass? Senza pass non si passa, non sono passata. Ecco. Po... Poesia. Silenzio. Ehm... No, no, ridono perché non l'hanno capita Ma no, non l'hanno capita, forse è un po' difficile, un po' complicata No, no, poi scusa, eh, io l'ho vista canzonissimo, ho sentito degli applausi molto più forti di questi La traduco, vediamo Traduco dal Lombardo Tu che attacchi i tacchi, attacca i tacchi a me, attaccare i tuoi tacchi a te Ma attaccatevi te i tuoi tacchi, tu che attacchi i tacchi, eh Ce la fai ancora a dirla? Tic-tac-tac-tac, tac-mitac-a-mimi, tac-t tight-tac-tick-tac Ma no, no, fermi, 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 che bello Tu che attacchi, attacchi a me, io attacchi a te, attacchi a te, tu che attacchi, attacchi.